C'è i nostri microfoni per rappresentare l'UFR Ruggeri. Oggi è arrivata una sconfitta, la posizione in campionato non è delle migliori. Questo campionato tra l'altro sta per finire togliendo la Coppa. Insomma avete conquistato un'ottima finale. Adesso parlando soltanto del campionato, avete qualche rimpianto? Potevate fare qualcosina in più quest'anno? Come hai detto, il campionato per noi al momento ha poco da dire ancora. Manca una partita che sicuramente onoreremo con il Real Miami la prossima settimana. Dopo il Real Miami tireremo un attimino le somme di quella che è stata la stagione, almeno per quanto riguarda il campionato. Per quanto riguarda le Coppe ci giochiamo una finale sicuro, è una buonissima semifinale. Cercheremo di puntare alla finale anche nell'altra Coppa, la Coppa Vita. Ecco, come mai questo andamento? Cioè in campionato non siete riusciti a dare continuità? Mentre invece nelle Coppe, come hai giustamente ricordato te, avete una finale da giocare, una semifinale, quindi un'altra finale da andare a conquistare. Perché vi siete detti una motivazione, un perché, perché nelle Coppe siete andate così bene e in campionato magari in alcune occasioni avete staccato la spina? Eh infatti, mi hai detto bene, abbiamo staccato la spina purtroppo in tante occasioni. Questo è stato un attimino quello che ci ha penalizzato in questo campionato. Sicuramente non siamo partiti bene all'inizio della stagione. Poi abbiamo recuperato verso novembre-dicembre, era tardi per recuperare in classifica perché poi tra l'altro era stato fatto più di due terzi del campionato se non erro, quindi purtroppo ci ha penalizzato sicuramente un avvio veramente con pochissimi punti. Poi un po' la deconcentrazione insomma in campo, un po' abbiamo trovato comunque squadre all'altezza, il Montagnola secondo me non è una squadra che rispecchia la classifica che ha. Quindi insomma cercheremo di puntare sulle coppe.